Regà, siamo ufficialmente il boss Ghost Rider della nuova stagione, siamo un nuovo boss, guardate che figata Ma che cosa sta succedendo, regà? La partita più pazza di sempre Dovete lasciare un like solo per questo, regà Sto facendo allianze con un nemico che pensa che io sia il boss mitico, ma che cosa? Regà, ben tornati in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi siamo qui per andarci a fingere il boss Ghost Rider per tutta la partita Ma lo faremo in un modo molto particolare perché utilizzeremo anche i poteri di Doom Per far credere che siamo davvero i veri boss, regà Ci metteremo i poteri davanti con la carta e fingeremo di essere i boss di questa stagione Adesso però mandiamo l'amicizia ad uno di voi che mi supporta come creatore nel negozio oggetti Che ha lasciato un like al video, se è iscritto al canale, ha guardato il video fino alla fine E ha commentato qui sotto nei commenti spammando il suo ID il più possibile Grazie mille David Magic, è il tuo turno, amicizia inviata Adesso però direi di non perdere più tempo e andare subito in partita perché i poteri del boss Doom da rubare ci aspettano Quindi andremo a rubare i poteri poi torneremo all'autorità e ci fingeremo il boss per tutta la partita Vediamo che cosa succede, 3, 2, 1, andiamo in partita 8 minuti Doom arriviamo, andiamo a prendere i poteri del boss regà perché ce li dobbiamo portare con noi E far finta di essere il boss Ghost Rider per tutta la partita Speriamo che il boss Doom sia piuttosto tranquillo oggi perché come sapete regà sono troppo forte su questo gioco Quindi non vorrei umiliarlo troppo O forse in realtà sono talmente scarso che non vorrei morire dal boss Doom Beh ecco forse questa è più probabile come cosa Ah sotto la tana non lo vedo regà Probabilmente sarà qui in casa Quindi atterriamo lì, ci prendiamo il pompa e cerchiamo subito il boss Direi che è una buona cosa Ok eccoci eccoci Cerchiamo subito il boss regà Non dobbiamo perdere tempo perché dobbiamo sbrigarci e andarci a fingere il boss in un'unica partita Sarà difficilissimo Ma se lasciate un like penso che ci riusciremo alla grande Eccolo qui Subito spariamo gli spariamo gli spariamo gli spariamo gli spariamo gli vai Sì 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 ucciso subito Ucciso subito ci prendiamo tutti i poteri regà Ci prendiamo tutti i poteri Rimaniamo con il pompa Dove possiamo andare però aspettate Adesso che abbiamo i poteri regà dobbiamo scappare via e andare all'autorità in più fretta possibile Ci serve un veicolo Ci serve un veicolo ragazzi Ci serve un veicolo assolutamente Ok regà fail a parte Eccoci qui di nuovo dal boss Doom regà Non toccatevi mai gli occhi e pulite gli occhiali mentre state correndo via perché altrimenti arriva il nemico e vi cecchina Per fortuna che con il nostro boss Ghost Rider facciamo subito ad arrivare da un posto all'altro della mappa Grazie a questa fantastica moto regà Quindi non ci possiamo lamentare Speriamo più che altro di trovare il boss Doom come prima subitissimo e di farlo fuori in men che non si dica Oh mio dio stavolta ci ha preso regà Oh mio dio stavolta ci ha preso e non abbiamo neanche armi Forse una sì ma cavolo 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 È molto difficile ragazzi stavolta è molto molto difficile regà stavolta Abbiamo 16 di vida e 50 di scudo Ce la potremmo fare in realtà eh però è molto difficile Proviamo a rompere qui Stai zitta telecamera Un altro scudone questo è buono Questo è molto buono regà Speriamo che non prenda fuoco la nostra scala Ok Ok abbiamo i poteri regà Che perlomeno abbiamo un potere Davè meglio di niente Dov'è Mystic regà Ok è nostra I poteri dove sono Ok quello era uno scagnozzo Eccolo qui l'altro potere E la carta la carta regà la cosa più importante è la carta Dov'è No non ci credo Eccola Perfetto possiamo andare possiamo andare Possiamo andare via Possiamo andare via abbiamo tutto Abbiamo tutte le rovine sono anche in safe regà Cure dammi un medikit Mamma mia buono Mamma mia molto buono Facciamoci il medikit regà E poi siamo pronti ad andare all'autorità per fingerci il boss Abbiamo tutto quello che ci serve stavolta Se non fosse che sta arrivando qualcuno E è qualcuno che si sta fingendo uno scagnozzo Ma muore ma muore Penso ci rimanga abbastanza male Cioè c'era uno che si fingeva uno scagnozzo contro di me Ma come ti permetti Ok potere di aero Di doom ci servi In questo momento Dobbiamo cercare un veicolo regà come prima Speriamo di non prendere cecchinate stavolta Oh cavolo 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 Come facciamo ad arrivare a... Oh lì c'è un veicolo Lì c'è un veicolo regà Lì c'è un veicolo Ce la potremmo fare Ce la potremmo fare regà No c'è un nemico qui sotto C'è un nemico qui sotto Dobbiamo andare via più in fretta possibile Via 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 da qui subito Via da qui subito Via da qui subito No corri corri via corri via Ok 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 ce la stiamo facendo Non so con quale logica fisica e matematica Ma ce la stiamo facendo ragazzi Mi raccomando lasciate un like solo per quello che abbiamo fatto in questa partita Abbiamo fatto due kill pazzesche regà Adesso non ci rimane che arrivare nel cuore delle rovine Metterci lì e fare finta di essere i boss In modo molto tranquillo regà in realtà Dobbiamo fare i vaghi Dobbiamo sembrare dei veri boss regà Dobbiamo camminare con calma Lasciarci le cose mitiche davanti regà Perché altrimenti non saremo dei veri boss Perfetto eccoci qui alle rovine Che poverine sono tutte rovinate Volevo fare una battuta ragazzi Mi è venuta veramente brutta scusate Ok c'è anche gente tra l'altro C'è anche gente È perfetto così regà Vediamo se qualcuno ci casca che siamo i boss Ah io metto i poteri mitici qui davanti ragazzi Guardate Così Mettiamo tutte le cose mitiche qua e facciamo finta Aspettate le mettiamo più lontane E facciamo finta di essere i boss In questo momento così Facciamo qualche balletto così Vai guardate Regà siamo ufficialmente il boss ghost rider Della nuova stagione Siamo un nuovo boss Guardate che figata E c'è anche un nemico C'è anche un nemico C'è anche un nemico Vediamo la reazione Vediamo la reazione del nemico ragazzi È qui fuori Vediamo la reazione regà È qui Ok io farò il balletto regà Io farò il balletto Io farò il balletto Lui è qui sotto Ok Non so che cosa sta facendo regà Non lo capisco Speriamo che non ci uccida Oh mio dio Per adesso ci ha visti Mi sa che non ci ha ucciso Ok il boss ghost rider sta in moto ragazzi Quindi noi resteremo in moto E gireremo intorno ai nostri poteri Però chi è il maleducato Che ha fatto un buco qui Sali sali Che viene a prenderti Tutti i poteri mitici Del nuovo boss mitico Bro Regà c'è uno qui sotto Che non vuole salire Cavolo Se sale scopre tutti i poteri mitici Eccoci Prendiamoci lo shieldino regà Guardate Sta credendo che siamo i boss mitici E noi ci facciamo un bel giretto in moto regà Per farti capire che siamo i boss ghost rider Oh mio dio ragazzi Oh mio dio Vediamo se Vediamo se ci capisce Andiamo a aprire il volto Andiamo a aprire il cavo Andiamo Ecco qui I nuovi boss regà Ho portato un nemico Dentro un cavo con la carta Ma che cosa sta succedendo Guardate Oh mio dio Nemico Ma che cos'è questa cosa Oh mio dio ragazzi Ma che cosa sta succedendo in questa partita Ma non ci voglio credere regà Cioè non ci sta uccidendo Stiamo facendo una roba assurda Ci stiamo fingendo il boss E un nemico Ci ha creduto Perché abbiamo la carta in mano Oh mio dio Oh mio dio Camminiamo come dei boss regà Camminiamo lenti lenti come dei boss Prendiamoci i nostri poteri mitici E me ne vado Me ne vado Ciao amico È stato un piacere Ciao Aspettate gli faccio il ballo del saluto Perché ce l'ho Ciao amico No 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 dice di no ragazzi Dice di no Grazie Ma lui si sta fingendo un hub Secondo me Oh scusa No 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 Ci sono un sacco di nemici E io sto timmando contro un altro nemico ragazzi E mi sto fingendo il boss Con la carta Ma che cosa sta succedendo regà La partita più pazza di sempre Dovete lasciare un like solo per questo regà Guardate Sto facendo alleanze con un nemico Che pensa che io sia il boss mitico Ma che cosa Eh ragazzi Qui la coppia mitica non si batte Io sono un boss assurdo E lui è il mio compagno Ma che cosa sto vedendo Ovviamente regà Non giocate mai in coppia Così come sto facendo io Non lo sto facendo apposta Cioè io sono il boss ragazzi Io me lo posso permettere Io me lo posso permettere Sono il boss mitico Oh Ragà io non sto capendo Che cosa sta succedendo Molto sinceramente Stiamo facendo una delle partite Più pazze di sempre Che io abbia mai fatto Allora non solo Questo ha creduto Che noi fossimo dei boss mitici Ma più che altro Non lo so La situazione è molto strana ragazzi No Sono morto Amico proteggimi Vendicami Ti prego Amico vendicami Non è possibile Ragazzi non l'ho visto il nemico Io stavo solo fingendo Di essere il boss Oh E lui stava provando A prendere la carta Tipo a dire Ma questo era un boss Vai amico Vai amico fallo fuori Vai amico fallo fuori No No amico No No amico Non morire No L'amico è morto ragazzi Il nostro amico è morto No Regà che dirvi È stato uno dei video più pazzeschi Che abbiamo fatto sul canale Ci siamo fitti Il boss ghost rider In una maniera un po' particolare Provando a prendere Dei poteri mitici Ed ha funzionato Un nemico è anche venuto Insieme a noi Regà io non ho parole Prima di salutarci Vi ricordo Codice lolla polla Nello shop Guardate quante skin super assurde Stanno uscendo in questo momento Cliccate sul supporto al creatore Lollopo Lo mettete accetta Ci vediamo domani In un nuovissimo video Grazie a tutti per la visione E bella regà Non so che dirvi È stato un video assurdo Grazie a tutti per la visione Grazie a tutti per la visione